Sino, si ridà un po' di vita a questa zona della città? E' quello di cui ha bisogno, cioè la frequentazione che deve passare attraverso anche una riqualificazione strutturale, per cui la realizzazione di questo nuovo pezzo di pista ciclabile che ne connette due, nuova illuminazione e sui pali anche un sistema di videosorveglianza, ma soprattutto l'organizzazione e qui ringrazio le associazioni volontaristiche che si sono date disponibili per organizzare eventi anche agonistici, passeggiate, corse, passeggiate coi cani e tutto quello che è la frequentazione e la socializzazione delle persone. Molte cose che togliamo dal Parco Giotto e portiamo qua, proprio con l'intento di rivitalizzare, di rendere nota questa parte di città a molti cittadini che non c'entrano per paura. Bene, vorremmo proprio che in questa primavera estate si riprendesse una frequentazione del Parco del Pionta, in modo tale da poterlo poi continuare per tutto l'anno. Nell'opera di riqualificazione verrà riqualificata sia l'illuminazione, ma verrà installata anche la videosorveglianza, quindi tutta questa parte del Parco del Pionta sarà dotata di videosorveglianza proprio per aiutare a prevenire certi fenomeni. Tempi, entro un anno contiamo di mettere a regime tutto.